C'è l'impegno della Regione per risarcire i danni agli agricoltori colpiti dall'ondara di maltempo dei giorni scorsi che ha portato alla gelata delle colture con inevitabili ripercussioni sulla produzione e sul raccolto. Lo ha assicurato il Governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, partecipando a ritori serpari di Cocullo. Abbiamo delle risorse adeguate, annuncia il Presidente della Regione. Dobbiamo soltanto trovare la componibilità procedurale e legislativa. Le risorse finanziarie ci sono, proprio ieri ho sentito l'assessore alle risorse agricole, di sicuro sta studiando in maniera tale da fronteggiare questa emergenza. E' tornato sull'argomento ancora una volta il Presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, nel corso dell'inaugurazione della 35esima Fiera Regionale dell'Agricoltura a Prato-La Peligna. Mi auguro che la Regione possa trovare un modo per riconoscere i danni a chi vive di agricoltura e non riuscirà a raccogliere quest'anno in calza De Crescentis, spiegando come la strada del riconoscimento della calamità naturale è complessa, ma aggiunge Credo che sia complesso, però dobbiamo provare fino in fondo, cercare di capire quale strada siano le migliori da percorrere per arrivare all'obiettivo. Mercoledì 4 maggio alle ore 13 a Pescara, dall'assessore Pepe, è stato convocato un tavolo in Regione, al quale parteciperanno i sindaci dei comuni colpiti, compreso il Presidente della Provincia Antonio De Crescentis, le associazioni e i consorsi agricoli. E il sindaco di Vittorito Carmine Presutti a fare pressing su Pepe perché il vertice si tenga in Valle Peligna, visto il momento difficile che stanno affrontando gli agricoltori della zona.